Unica proposito, ti volevo dire che ho comprato questo gioco nuovo per la play molto figo e te lo volevo far provare. Si chiama Battle of the Pants, cito testualmente, un'eccezionale sfida tra gruppi pressoché sconosciuti, tra mirabolanti scontri senza esclusione di colpi e con modesta ilarità. Proviamo. E adesso cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo selezionare i concorrenti dello scontro. D'accordo. Ah, chi c'è? Ah, niente, sono i personaggi di queste band sconosciute che... Tu che prendi? Ma io prendo i Wild Dreams, cioè questo qua che si chiede... Corast! Ok, io prendo i Brother Creepers. Brother? Creepers. Conosci? Mai. Ehm... Prendo... Tu vuoi? Turn. Chi cazzo è il turn? Ok. No, no, no. Vai! Oh! No! No! Oh! Ah, non lo so! No! Ah! Eh! 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 Ah, ah, una cosa che ti prendi è buona! Si, è buona! Oh! A proposito... Sai che c'è un concerto il 28? Il 28? Il 28? Sabato? Si, sabato. Ehm... Alla P16, a Bologna. Ah, si? Chi suona? Boh, dei soliti gruppi sconosciuti Quelle serate lì Però, no, alla fine dai, carino La pre vendita costa 6 euro Più consumazione E niente Cominceranno Sono le 9, bene, andiamo Dai Bolo Mossa finale Ho perso Eh, vabbè Cosa fai? Chi scegli? Si può cambiare anche in gara, quindi Che cosa? Alessio No, Alessio no Alessio? No, Alessio no No, no, no Ehi, vo